Gli ottavi di Champions League sono a un passo e la Juventus questa volta non può perderli. Gioca in serata, in casa, contro l'Atletico Madrid è già qualificato, in uno scenario molto diverso da quello di un anno fa, quando i bianconeri furono fatti fuori dal gol BFA di Snyder nel pantano di Istanbul. Per centrare l'obiettivo alla Juve basta un punto, ma una vittoria con due gol di scarto proietterebbe la squadra al primo posto, proprio davanti ai campioni di Spagna in carica. E l'allenatore Allegri ha le idee chiare e punta in alto. L'obiettivo è il passaggio, è normale che domani bisogna fare di tutto il possibile per cercare di vincere, vincere con due gol di scarto, non è semplice perché loro è una squadra che concede poco, poche occasioni al gol, è una squadra che è molto brava sui calci di punizione. Siamo in una partita molto difficile, importante per noi sotto tutti i punti di vista, non bisogna farci sfuggire all'obiettivo, l'obiettivo è quello di passare il turno, ma anche quello di cercare di arrivare prima perché ci permetterebbe di arrivare ad un sorteggio sicuramente trovando tutte le seconde.